Ciao a tutti, ecco un breve video per avere informazioni di base per quello che riguarda l'enteroclisma. È molto utile farlo in depurazione, soprattutto nei 10 giorni, dove le tossine che erano ferme iniziano veramente a uscire fuori. Quindi è importante l'enteroclisma con il caffè biologico. Anche se qualcuno di voi so che è il te blosso, però vi consiglio di farlo prima che con il te blosso con il caffè biologico, perché l'azione che noi vogliamo avere, grazie a questo strumento, l'enteroclisma, è andare a lavorare anche sul fegato. Quindi preparare nella sacca che si compra in farmacia, che sarebbe l'enteroclisma da viaggio, noi scaldiamo l'acqua, mettiamo dentro la sacca, più o meno su due litri, l'acqua calda. Prepariamo poi da parte, in una pentolina di acqua, ci mettiamo poi del caffè, due cucchiaini, insomma, vediamo un po' in base a quanto è grande la pentolina, e facciamo bollire e poi lasciamo leggermente raffreddare e prendiamo quest'acqua con il caffè filtrato, in modo che non abbia i pallini di caffè. E la mettiamo dentro l'acqua calda della sacca. E poi si va in bagno, ci mette più comodi possibile. Io avevo messo gli asciugamani per terra e anche un cuscino per appoggiarmi col braccio, perché la posizione ideale per questo tipo di enteroclisma al caffè biologico è sul fianco destro. Questo perché grazie al caffè e grazie alla posizione sul fianco destro, noi andremo a lavorare sul fegato. Quindi il caffè aiuta tantissimo a simulare il fegato, a fare anche lui la depurazione. Quindi è un ottimo strumento da fare proprio in questi dieci giorni. E come si fa? Si mette questa canula, quindi questo tubo che sarà collegato dalla sacca, si fa entrare leggermente, in modo che sia delicata come cosa, e si fa entrare un po' di acqua. Provate un attimo all'inizio, più che altro il primo passaggio, perché l'acqua deve essere sì calda, ma non troppo calda. Fate magari la prova come si fa con i bambini, quindi l'acqua la provate sul polso, e se è troppo calda, aspettate un attimo. Ecco, se riuscite comunque non deve essere neanche già tiepida, perché si fanno più passaggi, quindi poi rischiamo di avere acqua fredda, e l'acqua fredda nell'intestino non va tanto bene, non fa piacere all'intestino. Quindi il mio consiglio è di farla un pochino calda, vedete come riuscite a sopportarla, in modo che sia comunque sopportabile, logico. E poi si fa entrare un po' di acqua, tanto c'è un rubinettino che si apre piano piano, ve lo gestite un attimo, e fate entrare più acqua che potete, ma non tantissima, cioè vedete, sentitevi poi voi con la pancia come va. Magari nel frattempo con l'altra mano massaggiatevi sulla pancia, per mantenere anche l'intestino e la pancia rilassata. Quando avete sufficiente acqua inserito, chiudete il rubinetto e aspettate. L'ideale è aspettare dai 12 minuti, al massimo 15 minuti, per tenere l'acqua dentro l'intestino. Probabilmente la prima volta che si fa entrare l'acqua, non sarà così facile tenerla per 12 minuti. Quindi se vi viene da scaricare, scaricatela, non vi preoccupate, poi rifate un passaggio successivo. Questi vari passaggi vengono fatti fino a quando l'acqua non la scarichiamo pulita. Quindi una volta che l'acqua esce pulita, ecco che l'enterocrisma è finito. Tenendo conto che ci vuole dai 12 ai 15 minuti di mantenimento dell'acqua nell'intestino e ci vogliono più passaggi, ci vuole all'incirca un'oretta, un'oretta e mezza. Io ci ho messo un'ora e mezza, ma io ho fatto anche 5 scariche, quindi ero parecchio intasata, il mio intestino era parecchio sporco. Quindi io ci ho piegato un po' di più. Ma normalmente in un'oretta si riesce a fare. Una cosa importante è farlo per chi può, soprattutto la mattina, perché poi vi sentirete veramente leggeri, veramente carichi, pieni di energia. E quindi avere questa energia, questa leggerezza per tutta la giornata è sicuramente piacevole. Quindi questo è un po' dei consigli molto brevi, molto pratici di come fare l'enterocrisma per la prima volta. Poi una volta che la fate, vedrete che non è così difficile e regolarmente sarebbe utile farlo. Anche una volta al mese, ogni volta che ce n'è bisogno. Quindi l'importante è anche, diciamo, utilizzare questo strumento come uno strumento utile per la salute. E poi un'altra cosa, adesso mi sulge, ma semmai ve lo aggiungo in un secondo momento. E intanto dai, buon enterocrisma a tutti. Ecco, mi è venuta in mente. Mi raccomando, fatelo per quanto è possibile, dopo aver buttato fuori già, diciamo, quelle funzioni fisiologiche la mattina, avere già scaricato. E dopodiché si può fare l'enterocrisma. Quindi vedete un pochino come riuscire a gestire anche questo aspetto importante per la salute. Un abbraccio a tutti, buona continuazione.